signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale cominciamo a finire la trattazione del planscape l'ambientazione per un tono magia ai dungeons and dragon questa settimana cominciamo andando a parlare dei piani del bene questa sarà una serie all'interno della serie perché saranno almeno sei video sì i piani esterni sono decisamente vasti in cui andremo a vedere nell'ordine tutti i vari aspetti della grande ruota anche se in maniera molto stringata e molto schematica non perdiamo quindi altro tempo cominciamo questa settimana con i piani del bene il bene è una delle quattro grandi forze che descrivono l'allineamento all'interno di dungeons and dragon ed è la forza di ciò che è buono ciò che è giusto ciò che è amico della vita e ciò che garantisce che la vita si sviluppi e fiorisca nel miglior modo possibile nei piani esterni dove la morale è ciò che va a sostituire fondamentalmente la fisica i piani dominati dal bene sono quelli in cui abitano le creature buone dove le anime dei mortali trasmigrano dopo la morte e sono quelli relativamente più amichevoli per i mortali anche se amichevole per quanto riguarda i piani esterni è comunque qualcosa di molto tirato come concetto diciamo che in linea di massima i piani del bene sono quelli meno pericolosi e più facilmente accessibili ovviamente per chiunque non sia malvagio perché il fatto che gli abitanti siano buoni non vuole affatto dire che siano amichevoli solo che mettano la preservazione della vita al di là di qualsiasi altra cosa il primo è il più puro tra i piani del bene sono i campi benedetti dell'elisium luogo di riposo finale per quelli che hanno passato la loro esistenza mortale a lottare contro il male l'elisium è una terra paradisiaca fatta di campi che abbondano di frutti ed è attraversato dal fiume oceanus che man mano che attraversa i suoi strati si divide in rapide canali piccole cascate grandi laghi rigogliosi pieni di pesci in cui l'acqua è sempre fresca e potabile e in realtà le cascate i vortici del fiume oceanus sono praticamente l'unica cosa fisicamente pericolosa che gli avventurieri possono incontrare in questo piano per via della sua natura di purezza assoluta del bene molto spesso i campi benedetti e l'elisium sono semplicemente chiamati il nirvana in molti piani materiali per quelli di voi che giocano a pathfinder gli abitanti del golarion li chiamano appunto nirvana l'elisium incarna il concetto di bene puro e primordiale senza che questo venga né inrigidito dalla volontà dell'ordine né dissipato dal mutare costante del caos qui risiedono i reami divini delle divinità del puro bene e qui abitano i gardinal gli spiriti sovrani che soprassiedono al bene a tutto ciò che è buono nell'universo e da cui vigilano costantemente per evitare che il male si diffonda troppo all'interno della grande ruota all'interno delle vari strati dell'elisium è possibile incontrare ogni tipo di ambiente naturale che è possibile incontrare sul piano materiale in una sua forma idealizzata la differenza principale con quello a cui i mortali sono abituati è che non esistono né soli né lune né stelle nel cielo tutto immerso in una costante radiosità autoprodotta anche se è possibile che specifiche regioni di uno strato abbiano effettivamente alcuni fenomeni celesti o anche fenomeni meteorologici se questa è la volontà della potenza che le governa in quel momento anche in quel caso comunque i soli sono molto più radiosi le stelle sono molto più belle allo stesso modo in cui i campi nell'elisium sono sempre più fruttuosi da questo deriva il nome ma anche le sue foreste sono le più rigogliose i suoi deserti sono i più spettacolari e ovviamente anche i supplicanti e gli altri abitanti al piano normalmente sono una forma idealizzata della razza o della specie di appartenenza sul piano materiale dove il puro bene comincia a essere contaminato dalla legge si trovano i paradisi gemelli di Bitopia il piano delle giuste opportunità Bitopia deve il suo nome di paradisi gemelli per via della natura del piano Bitopia è composta da due strati risposti specularmente uno rispetto all'altro guardando in alto si può vedere la superficie dell'altro strato del piano e i piani sono collegati tra loro dalle cime di altissime catene montuose ricordiamoci che qua siamo nei piani esterni tutto è esageratamente più grosso e più imponente di quello che si può trovare nel piano materiale dei due strati di Bitopia uno è il piano delle coltivazioni della civilizzazione e dell'industria e l'altro è il piano delle materie prime della natura primordiale e selvaggia e della libertà di opportunità Bitopia è abitato da varie specie di esterni superi e anche dai supplicanti dei mortali che nella vita hanno messo ciò che è giusto e rispettabile davanti a tutto il resto a Bitopia tutti gli accordi presi sono mutualmente beneficiari gli abitanti di Bitopia sono caritatevoli verso i viaggiatori planari ma si aspettano che per ogni cosa che venga data ai viaggiatori qualcosa venga dato indietro perché Bitopia è il piano dove il lavoro è duro ma viene giustamente ricompensato dove le risorse sono abbondanti ma devono essere lavorate e dove lo scambio e l'aiuto continuo è qualcosa dato per scontato e fondamentalmente imposto dalla natura stessa del piano qui è dove vanno gli spiriti anche di moltissimi animali domestici ed è il piano dove risiedono alcune delle divinità del bene e della correttezza qua per esempio risiede il pantheon degli ignomi ma è anche uno dei posti dove si possono trovare i migliori artigiani dell'intero multiverso tra tutti i piani esterni non c'è un luogo di bellezza naturale selvaggia che possa essere anche solo lontanamente paragonabile alle distese selvagge delle terre bestiali qui il bene superiore viene incontro al caos creando un'infinita distesa di foreste e giungle abbondanti di vita, piene di animali selvaggina e la natura stessa del piano rende selvaggi e indomiti chi ci abita qui la fame è sempre molto più acuta ma il cibo è molto più buono e molto più nutriente il sonno è molto più ristoratore ma quando ci si sveglia ci si accorge di essere molto più allerta e fondamentalmente molto più vivi di quello che si è mai stati potrebbe ricordare le giungle più selvagge del piano materiale ma stiamo parlando di la versione reale rispetto a una fotografia sbiadita le distese selvagge delle terre bestiali sono la natura primordiale al suo massimo potenziale le terre bestiali sono divise in tre strati ognuno fermo a una determinata ora del giorno il primo strato è quello diurno dove il sole non cala mai e di una luce accecante nel cielo e le cui foreste sono le più rigogliose in assoluto e abitate da tutti i tipi di flora e di fauna che vivono durante il giorno in tutti i piani naturali del multiverso questo è probabilmente il piano più ospitale per chi viene dal primo piano materiale anche se in realtà la sua radianza alla lunga è effettivamente fastidiosa tutto è avvolto in una luce costante il secondo strato è sempre in un eterno crepuscolo in cui la luce arriva da un tramonto fisso sull'orizzonte e una pallida luna nel cielo e in cui è possibile trovare tutte le creature che vivono all'alba e al tramonto che cacciano nella penombra e dove si trova la maggior parte dei cacciatori che arrivano da ogni parte della grande ruota appunto per cacciare le prede più selvagge che l'intero multiverso può offrire qua è molto comune la vista di grandi falò circondati da tende di cacciatori che vengono da ovunque della grande ruota il terzo strato invece è per sempre avvolto in una notte eterna qua il buio e le creature della notte la fanno la padrone tanto che è fisicamente impossibile accendere luce o accendere fuochi è possibile portarsi forme, fonti di luce dall'esterno ma anche una fiaccola accesa da un'altra parte e poi portata in uno strato notturno sarà più fioca, farà meno luce perché il regno delle creature della notte non deve essere disturbato questo è un piano francamente ostile non solo a chi viene dai piani materiali ma a chiunque venga dalla grande ruota che non sia a sua volta una creatura del buio o delle tenebre diciamo che per questo primo video è tutto per adesso la serie andrà in pausa poi ci rivedremo a breve probabilmente già tra un paio di settimane con il secondo episodio quello dedicato ai piani del male dove le cose si fanno un attimo più divertenti fino a quel momento fatemi sapere nei commenti qui sotto se voi li conoscevate, come li utilizzavate come li avete mostrati ai vostri giocatori nelle vostre quest tra l'altro so che sono stati fatti anche dei cambiamenti col passaggio alla quinta edizione che è quella che io conosco meno quindi se ci sono dei giocatori di quinta edizione che vogliono aggiungere elementi andate pure come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che vi è dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video